SEMATIC ETP1000 SEMATIC ETP1000 è il più recente tra i prodotti nel settore mobile computing di Siemens. Sviluppato appositamente per l'utilizzo in condizioni ambientali gravose, è il compagno ideale nelle attività industriali di tutti i giorni. Ed è proprio per questo motivo che è dotato di una grande varietà di interfacce, un lettore di schede SD, Gigabyte Ethernet LAN, USB 3.0, Mini DisplayPort, Comport e un'interfaccia USB-C. Naturalmente il dispositivo è dotato anche di LAN e Bluetooth. Inoltre sono presenti un lettore RFID, un lettore di codice a barre e una fotocamera integrata. Grazie alla Docking Station è inoltre possibile utilizzare SEMATIC ETP1000 come PC per una postazione di lavoro dalle alte prestazioni. Docking Station stessa è dotata di un'interfaccia Gigabyte LAN, l'interfaccia USB 3.0 e un'interfaccia DisplayPort. Quando si è in viaggio è disponibile una borsa da trasporto appositamente sviluppata per SEMATIC ETP1000. Oltre a un'adeguata capienza, questa borsa è dotata anche di un pratico dispositivo di supporto, grazie al quale è possibile lavorare con il massimo della comodità in qualunque momento, in qualsiasi punto dell'impianto. Anche in questa configurazione tutte le interfacce precedentemente elencate sono liberamente accessibili. La funzionalità touch del display multitouch da 10,1 pollici è già disponibile a livello del BIOS. Se i tasti liberamente programmabili possono ad esempio essere impostati per l'azionamento della fotocamera o del lettore di codice barre. Come potete vedere, SEMATIC ETP1000 può essere adattato in modo ottimale alle vostre esigenze. Siemens. Ingenuity for life.